La soluzione è stata trovata, la soluzione consiste nell'avere preso in giro gli Aretini e Arezzo, perché dopo 15 mesi ci viene detto che ancora la soluzione temporanea decente non c'è e ci viene detto che per la nuova soluzione occorreranno tre anni, ora il Ponte Morandi lo hanno fatto in molto meno. L'ex direttore delle cure palliative dell'ospedale San Donato di Arezzo non fa sconti a nessuno. L'ospedale ad Arezzo non ha ancora una sede, in questo momento i posti letto sono nella clinica San Giuseppe e l'ipotesi ormai in piedi dallo scorso aprile è quella di trasferire la sede provvisoria all'Istituto di Agazzi, ma ancora nulla. In un comunicato stampa delle ultime ore l'azienda sanitaria afferma che questo avverrà a breve, ma non dà tempistiche certe. Nel frattempo le famiglie, i malati, insomma lei è stata per tanti anni dirigente delle cure palliative, che si rivolgono a lei, chiedono informazioni, le raccontano la condizione che vivono? Purtroppo sì, purtroppo anche se sanno, anche stamani mi hanno telefonato, se sanno che sono in pensione però mi chiedono aiuto, non sanno come fare, ma non perché il servizio scudo, il servizio cure palliative non funzioni bene, funziona benissimo come quando c'ero io, ci mancherebbe altro. Manca la parte residenziale, se un paziente, ma soprattutto una famiglia, ha bisogno, ma anche semplicemente di staccare per 15 giorni, di essere aiutati per 15 giorni, non solo al domicilio, ma altrove, per tirare un po' il fiato, in questo momento gli aretini non hanno questo a disposizione, assolutamente. La soluzione definitiva invece proposta dalla ASL è la costruzione di una palazzina ex novo nell'area del Pionta, che richiede circa tre anni di tempo. Nel 2017 l'hospice trovò casa in quella che per gli aretini è la palazzina del Calcite dove oggi c'è il servizio di senologia. Qualche anno fa, poiché la palazzina Calcite non riusciva più a contenere il volume, l'afflusso di persone, di medici, di infermieri dell'oncologia, fu trasferita al quarto piano del primo lotto del San Donato. Per ristrutturare quel primo lotto occorsero allora circa 850 mila euro o più molta parte degli arredi che pagò il Calcite. Qualche anno dopo la palazzina che era vuota, la palazzina Calcite, viene occupata dall'ospice. Una ristrutturazione che è costata 450 mila euro o più altri 70-80 mila euro il Calcite per gli arredi. Quindi si arriva ad una cifra piuttosto notevole. Ora io mi chiedo, da medico ma anche da cittadino, ma se la palazzina non era sufficientemente grande per ospitare l'oncologia anni fa, lo è diventata ora? E ora ha ancora meno spazio di prima perché alcuni degli spazi originali sono stati occupati giustamente dalla senologia che non aveva spazi adeguati. Quindi la soluzione più semplice non sarebbe forse quella di non buttare via quei quasi 2 milioni di euro per le due ristrutturazioni e di riportare l'oncologia laddove era stata ristrutturata la sua casa e riportare l'ospice là su dove l'ospice era. Questo è praticamente a costo zero perché questa soluzione non viene proposta da nessuno. Anche la politica è compatta nel dire che questi tempi sono inaccettabili. Dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tante a Marco Donati di Scelgo Arezzo, a Marco Casucci della Lega Nord, gli stessi consiglieri regionali del PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis che ad aprile annunciavano sette posti ad agazzi entro maggio, oggi denunciano ritardi per l'attivazione della sede provvisoria ma comprendono i tempi tecnici per quella definitiva. Parametrati per il numero di abitanti, il Val D'Arno ha i suoi tre posti letto, la Val di Chiana su dei posti letto, la Val di Chiana Senesa ha i cinque posti letto, quattro non ricordo, Siena città che è molto più piccola di Arezzo ha i cinque posti letto, Poggi Bonzi quattro posti letto, Arezzo zero posti letto. Considerando poi che nel piano investimenti triennale in atto per l'ospice di Siena sono previsti 6 milioni e mezzo e per l'ospice di Arezzo zero, beh insomma non si tratta più di serie B, si tratta di serie infima, infima, ripeto, siamo veramente alla presa in giro degli aretini.